Gli screening di massa anti-covid rischiano di peggiorare la situazione epidemiologica. Questa è l'accusa shock del capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, che punta il dito contro la gestione marsilio della crisi sanitaria. Finora le iniziative di test rapidi promosse nei vari comuni sono sempre state ritenute una delle armi più efficaci per rallentare la diffusione del virus, con tanto di appelli su appelli per stimolare la partecipazione dei cittadini. Ma ora, con un inquietante effetto boomerang, gli screening potrebbero aver generato l'effetto contrario. Abbiamo ricevuto una segnalazione direttamente dai medici volontari che stanno effettuando questa campagna di screening con i test rapidi, quindi non con il tampone molecolare, che ci hanno segnalato un tasso di positivi bassissimo, troppo basso da trasformare l'ottimismo in preoccupazione. Test rapidi antigenici che potrebbero essere poco affidabili. Il Ministero della Salute aveva raccomandato, senza alcun obbligo, di utilizzare solamente test la cui sensibilità si è dimostrata maggiore del 97%, una soglia di affidabilità questa ritenuta eccessiva dalla Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo invece ha svolto un'indagine di mercato tramite l'ARIC per reperire dei test con sensibilità maggiore al 90%, quindi minore rispetto a quello raccomandato dal Ministero. Di conseguenza, se è vero che i test non possono far risultare solo falsi positivi, ma anche falsi negativi, è allora probabile che chi fosse erroneamente convinto di non aver contratto il virus abbia potuto abbassare la guardia, diffondendo il Covid con maggiore facilità. Quattro i fornitori dei test abruzzesi. Al momento non è chiaro quanto la Regione abbia effettivamente speso di quella milione di euro stanziato nella variazione di bilancio per l'acquisto dei test. Sono state ripartite, insomma, questo milione di euro tra i quattro fornitori. Di tre fornitori compare la cifra esatta del contratto sottoscritto sul bilancio. Su Proxima SRL c'è una cifra diversa, per cui non sappiamo se sia stato impegnato tutto il milione o soltanto intorno a 600 mila euro. La romana Proxima SRL, che avrebbe venduto i test al prezzo più alto, risulterebbe avere come amministratore unico l'imprenditore della comunicazione Michele Russo, che era stato nominato nel 2009 presidente della GTM dall'allora governo di centrodestra.